È la mia fiera perché a parte che McFruit è un po' come casa, lo faccio da tanti anni, è una ricorrenza importante per l'ortofrutta italiana, è innovazione ma è anche networking, colore, il bello di incontrarsi, è proprio un'occasione annuale ricorrente che diventa parte integrante della nostra vita lavorativa, è qualcosa a cui non possiamo rinunciare. Io amo l'ortofrutta e amo vederla tutta insieme, tanta anche innovazione, tanti partner esteri, tante facce anche nuove, stranieri, quindi bei contatti. Donna in ortofrutta è stimolante, è impegnativo, è una sfida continua però noi ce la mettiamo tutta. L'ortofrutta italiana ha bisogno di aggregazione, di superare i localismi, l'individualità delle singole aziende e andare oltre. Pensare collettivo per il bene di tutti, per il benessere del consumatore, per offrirgli un prodotto che sia buono, di qualità, ad un giusto prezzo. E per fare questo dobbiamo essere più coesi, creando relazioni, network che possono portare valore. Lo facciamo partendo da noi che abbiamo uno stimolo, una creatività, una passione particolare e unite possiamo fare la differenza.